Stavano festeggiando in barba le normative anti-covid, riuniti in una sala e senza mascherina ad interrompere il brindisi in un hotel 4 stelle nel centro di Cortina i carabinieri che hanno bussato alla porta dell'albergo per un controllo. Mai si sarebbero aspettati gli uomini dell'arma di trovarsi di fronte ad una massiva violazione delle normative anti-covid-19. Tranquillamente fra calici di vino e risate i clienti si trovavano insieme nel pieno di un assembramento e fra l'altro senza dispositivi di protezione. Controllati uno ad uno i clienti sono stati multati, sei le sanzioni ai turisti ed uno al titolare dell'hotel. Se non fosse grave la situazione pandemica sarebbe anche ironico quello che è accaduto poco dopo l'irruzione dei carabinieri. Due persone, tra l'altro già contravenzionate, sono uscite dall'hotel, hanno preso la macchina e si sono velocemente allontanati. Una fuga inspiegabile, l'automobilista, un americano, ha pure imboccato la pista ciclabile del centro cittadino nonostante ci fosse un cartello di divieto di accesso ai veicoli motorizzati. I carabinieri hanno raggiunto l'uomo e lo hanno bloccato ed hanno proceduto all'alcol test. Il guidatore è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1.28, insomma una vacanza che l'americano non dimenticherà così presto perché oltre alla sanzione per la violazione anti-covid gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Intanto continuano serrati i controlli da parte delle forze dell'ordine per far rispettare le normative anti-covid fondamentali per cercare di arginare questa nuova ondata pandemica.